Se i governi non agiranno mettendo in campo soluzioni per contrastare il riscaldamento globale, più di un quinto dell'umanità sarà esposto ad un caldo estremo, potenzialmente mortale, entro la fine del secolo. Secondo lo studio condotto da alcuni ricercatori dell'Università Britannica di Exeter, la temperatura della superficie terrestre è destinata ad aumentare di 2,7 gradi centigradi entro il 2100 rispetto all'era preindustriale, il che dovrebbe spingere più di 2 miliardi di persone, il 22% della popolazione mondiale, fuori dalla zona climatica di Comfort, che ha permesso all'umanità di prosperare per millenni. L'India, la Nigeria e l'Indonesia sono i paesi con il maggior numero di persone che potrebbero affrontare un caldo mortale in questo scenario. Limitare il riscaldamento a 1,5 gradi centigradi, l'obiettivo dell'Accordo di Parigi del 2015, hanno spiegato gli autori dello studio, ridurrebbe il numero di persone a rischio a meno di mezzo miliardo. Per ogni 0,1 gradi centigradi di riscaldamento in più rispetto ai livelli attuali, 140 milioni di persone in più saranno esposte ad un caldo pericoloso. Il mondo, ha concluso la ricerca, sta già sperimentando un riscaldamento vicino a 1,2 gradi centigradi a causa dell'attività umana, in particolare dell'uso di combustibili fossili, con una serie di disastri, ondate di calore, siccità ed incendi boschivi.